Truffa sul super bonus 110% scatta un sequestro di 83 milioni di euro. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione al sequestro di 83 milioni di euro come profitto del reato disposto con decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli e convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale. La misura fa seguito all'esecuzione del sequestro dei crediti d'imposta fittizi relativi al cosiddetto super bonus 110% originati da un consorzio operante nel settore edile pari a circa 110 milioni di euro. L'attività trae origine da un'analisi dell'Agenzia delle Entrate sulla spettanza del bonus in materia edilizia previsto dal decreto rilancio. Un beneficio fiscale è riconosciuto nella misura del 110% della montare delle spese sostenute per la realizzazione di una serie di interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'efficientamento energetico. I crediti fittizi erano stati concessi al consorzio grazie allo sconto in fattura e poi parzialmente monetizzati mediante la cessione ad intermediari finanziari. La Procura della Repubblica di Napoli a gennaio aveva emesso la misura cautelare d'urgenza del sequestro dei crediti, così da interromperne la circolazione, disponendo contestualmente le perquisizioni finalizzate da individuari responsabili a consentire agli ignari cittadini coinvolti di adottare iniziative e idonee a tutelare i loro interessi.